Assessore, per gli inquilini di Via Balzarini non c'è pace, c'è stato anche questo distacco di corrente elettrica che miracolosamente poi questa mattina è tornata. Questa è la potenza forse vostra, non lo so. Sì, c'è di nuovo un problema qui in Via Balzarini. Questi problemi non finiranno mai fino a che l'Ater finalmente potrebbe, è l'unica che può risolverli questi problemi. In che modo? C'è un avvocato che ha scritto tante lettere, ha richiesto degli atti, ha richiesto una copia dei contratti, ha richiesto di capire quali sono i criteri secondo cui si stabilisce quanto e come debbano pagare queste persone. Ma l'Ater non ha mai dato risposte all'avvocato, lo ignora completamente. Abbiamo provato, abbiamo aperto un tavolo con il sindaco, con l'amministrazione comunale già da tempo. L'Ater è sempre stata, diciamo così, assente in presenza, in questo senso che a questi tavoli avevamo invitato un consigliere regionale che da Lanciano è venuto a Teramo per rispetto dei cittadini, invece l'Ater tutte le volte si è collegata da remoto e non ha mai, ripeto mai, neppure al sindaco dato delle risposte certe e concrete. L'Ater fornisse i documenti che l'avvocato ha chiesto, che abbiamo chiesto con insistenza. Noi non diciamo che questi inquilini non debbano pagare le spese condominali, sarebbe una follia, tutti gli inquilini pagano le spese condominali, ma vogliamo solo sapere come e perché. Hanno anche problemi nei loro appartamenti. Hanno anche problemi nei loro appartamenti e nel loro piccolo stanno provvedendo a dare quello che possono, a pagare delle quote quando possono. Hanno problemi per il riscaldamento, hanno problemi, non mi metto ad elencarli tutti perché credo che oramai io stufi le persone con via Balzarini e con i problemi di queste palazzine, ma è necessario, io credo che sia arrivato il momento di mettere un punto a questa storia. L'Ater deve rispondere all'avvocato e al sindaco e deve dare tutte le carte che abbiamo chiesto per mettere in chiaro tutti i problemi che ci sono in questa palazzina. E deve cacciare anche la relazione fatta dai tecnici che sono stati pagati dall'Ater stesso per vedere se veramente queste due palazzine potevano essere assegnate o no a delle persone in queste condizioni.